Salve a tutti e bentrovati, soprattutto sono contenta di rivedervi oggi in quanto veramente possiamo trascorrere insieme questo sabato e soprattutto volevo sapere anche un pochino così da voi come potevano essere andate già queste lezioni precedenti. Ovviamente la maggior parte di voi vedranno questa lezione domani, io la sto registrando il giorno prima perché giustamente si accavalla con un'altra lezione e quindi ci rivedremo sempre nel sosseguirsi delle nostre lezioni, poi naturalmente spero anche di incontrarvi un giorno e magari di poterci conoscere allo SNALS perché questo poi sarebbe ovviamente per me un momento di grande gioia ma soprattutto di importanza. Voi state preparando un percorso importante che è quello di entrare appunto nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria e non è un caso, non è proprio un caso che noi oggi facciamo una lezione dedicata appunto all'inclusione al mondo BES e poi voglio dire anche delle differenze anche se da bando non c'erano tra il 66 del 2017 e la 96 del 2019 io comunque ve le voglio fare perché praticamente riguardano le nuove norme per la promozione per l'inclusione quindi giusto darvi due spunti perché vi potrebbe capitare la domanda perché nulla vieta loro di fare questa domanda ecco appunto per quanto riguarda la parte della nuova inclusione. Quindi prendiamoci subito perché le cose che ci dobbiamo dire oggi sono veramente tante 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 perché ovviamente l'inclusione non è un caso che effettivamente parte dalla realizzazione dell'area appunto dei bisogni educativi speciali ma soprattutto parte dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria perché? Perché nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i bambini iniziano quindi a comprendere il concetto di rispetto, di valorizzazione, di educare, della collaborazione, dello scegliere, del sorridere, del crescere insieme, del giocare insieme, la giornata per esempio dell'amicizia, la giornata della festa dell'albero, quante giornate che abbiamo fatto ultimamente di appunto educazione al rispetto non solo verso se stessi ma soprattutto imparare a rispettare l'altro e quindi il concetto appunto il fulcro poi pedagogico di quello che appunto concerne il panorama normativo italiano è caratterizzato da un concetto di integrazione scolastica e poi da un concetto di inclusione. Ovviamente cari colleghi dovete anche capire che l'integrazione e l'inclusione sono due concetti separati nel senso che ovviamente non avete due momenti distinti e separati di quello che noi possiamo incarnare come inclusione e come integrazione però l'integrazione per esempio si realizza per tutti e per ciascuno però la parte dell'integrazione dovete sapere che guarda al singolo individuo. Invece l'inclusione guarda appunto a tutti nella dimensione dello sviluppo appunto di questa diversità, di questa speciale normalità come appunto la declarerebbe Dario Ianes e quindi in questo momento diciamo che la normativa sottolinea il percorso evolutivo che viene fatto sia per quanto riguarda l'integrazione che per quanto riguarda l'inclusione. Dovete sapere che le tappe verso l'inclusione ovviamente sono state lentissime nel senso che non c'è stato un momento veramente di facile apertura che ha portato all'inclusione, assolutamente no, anzi dovete sapere che le tappe verso l'inclusione sono state molto molto lente, tant'è vero che il primo passaggio e siamo prima del 1970 è quello della segregazione, nel senso che colleghi, gli alunni che all'epoca erano considerati handicappati perché non vi era ancora questo concetto di alunni con disabilità, frequentavano queste classi speciali, dette anche classi differenziali, significa che praticamente erano segregati, cioè venivano esclusi dalla possibilità di poter essere inseriti nelle classi con i normodotati a seguire la stessa programmazione curriculare prevista per l'intera classe, ma con la legge dell'inserimento e cioè con la 118 del 71 non è che cambia un granché, perché? Perché gli alunni handicappati, quindi handicappati lo teniamo come termine fino a prima della rascita dell'ICF, gli alunni quindi entrano nelle scuole comuni, però restano separati, cioè eseguono comunque una programmazione volta semplicemente a loro e non può essere quindi una programmazione fatta per tutti e per lo sviluppo delle potenzialità. Poi abbiamo questa legge 1518 del 71 che segna comunque un passaggio importante, perché? Perché gli alunni disabili, quindi all'epoca sempre handicappati, avevano la possibilità di seguire quindi la scuola, ma naturalmente erano relegati ai margini della società perché seguivano, abbiamo detto una programmazione per loro, come a dire sei handicappato, sei cretino, tu hai una programmazione che va bene solo per te, non puoi stare con gli altri, stavano in un'altra classe, erano separati. E poi dovete sapere che con questa 1818 del 71 vennero anche istituiti dei pulmini che andavano a prendere gratuitamente gli alunni disabili, ma disabili gravi, quindi per esempio quelli sulla sedia a rotelle, quindi paraplegici, tetraplegici e così via, che li andavano a prendere da casa e li portavano fino a scuola. Dovete sapere che il momento poi principale, anche nel campo della normativa scolastica italiana e soprattutto a cavallo con quello che è l'unificazione d'Italia del 1861, noi ce l'abbiamo pensate con la riforma gentile del 1923, perché la riforma gentile del 1923 con la quale noi abbiamo visto nella prima lezione di normativa che la scuola elementare finalmente viene costituita da 5 anni, dovete sapere anche che con questa riforma gli alunni ipoacustici e ipoavedenti, cioè all'epoca chiamati scechi e sordi, vennero inseriti nelle classi speciali, quindi sempre in classi relegate ai margini e questo poi corrisponde tra l'altro anche con il DPR 970 del 75, con il quale si instaura per la prima volta il concetto di docente di sostegno nell'ordinamento italiano, perché poi è soltanto con la 517 del 77 che prende forma realmente che cosa? Questo spazio all'integrazione, questo spazio adatto solo a loro perché vengono inseriti nelle classi della stessa programmazione curriculare prevista per l'intera classe e questo significa che le classi speciali vengono abolite e quindi questo è il vero start up ragazzi delle tappe verso l'inclusione, cioè questa diatriba, questa dicotomia del rapporto appunto tra l'integrazione e l'inclusione. Ovviamente dovete sapere una cosa, che l'inclusione poi è molto molto lenta, perché l'inclusione dal 1978 che si ha l'integrazione se ne parla post 94. Il documento Falcucci dovete sapere che anticipa, anticipa veramente l'inclusione, sapete perché? Perché il sottosegretario Franca Falcucci disse che per avere una scuola di qualità bisognava mirare allo sviluppo delle potenzialità, questo sviluppo delle potenzialità che naturalmente era fondamentale ai fini quindi dell'apprendimento dell'allievo e quindi è un manifesto potremmo dire appunto di un'anticipazione inclusiva questo documento Falcucci e nonostante questo queste potenzialità di cui parlava quindi la stessa sottosegretaria Franco Falcucci venne poi ripreso da Maria Montessori, perché se vi ricordate Maria Montessori a cavallo della legge Urlano nel 1904 fondò precisamente nel 1907 la casa del fanciullo dove ogni cosa era a misura del bambino quindi si capiva e si cominciò a comprendere attraverso la Montessori che tutto doveva essere a misura del bambino per poter rendere fruibile l'apprendimento e per accattivare gli studenti e per avere quindi una motivazione e un'attenzione particolare allo studio e quindi vennero istituite appunto queste classi con il metodo montessoriano e la stessa Montessori diceva che i bambini dovevano mirare allo sviluppo delle potenzialità potenzialità che Montessori chiamava nebole le nebole sarebbero quelle che in pedagogia noi chiamiamo attitudini cioè sviluppo delle potenzialità tutto quindi secondo la Montessori doveva essere a misura del bambino e ovviamente questo significava rendere l'apprendimento un apprendimento fruibile ma visto con gli occhi del bambino perché un apprendimento visto con gli occhi degli adulti è sicuramente differente da quello degli occhi dei bambini perché abbiamo detto che i bambini quindi amano giocare amano divertirsi imparano il rispetto delle regole meglio degli adulti 300 mila volte se voi andate in una scuola primaria avete un comportamento più rigoroso rispetto già a una prima media un primo superiore dove c'è un rispetto diverso perché i bambini sono educati al rispetto ed è la base la base realmente dell'istruzione della formazione e anche di un processo come dire di macro inclusione quindi l'inclusione come appunto momento importante abbiamo detto sia con la ratifica della convenzione ONU questa a partire con la legge 15 marzo del 2009 quindi diciamo che l'inclusione diventa ufficiale in Italia con questa ratifica ma andiamo anche a capire un attimo che cos'è l'inclusione cioè noi dobbiamo anche capire che per capire l'inclusione dobbiamo entrare nella gestione della classe dobbiamo essere rivolti ai docenti essere rivolti anche e soprattutto alla famiglia e ci sono delle indicazioni delle linee guida che ci fanno capire che l'inclusione è un valore aggiunto e ci pone di fronte ad una grandissima sfida educativa perché l'inclusione è la valorizzazione della diversità è accoglienza l'inclusione è uguale diversità dove la diversità è una ricchezza bella perché tutti siamo persone diverse e quindi noi dobbiamo mirare a questo processo inclusivo per innalzare la qualità dell'apprendimento di tutti gli alunni perché non ci dimentichiamo che lo sviluppo dell'inclusione deve essere la chiave del successo formativo dell'allievo ma soprattutto l'inclusione ci ricorda che bisogna sempre ricordarci che esiste un percorso educativo personalizzato degli studenti e ciò significa che l'inclusione deve rispettare la valorizzazione di queste tematiche sulla personalizzazione perché il concetto di personalizzazione nasce con la legge 53 che è la riforma Moratti dove la riforma Moratti sottolinea che la personalizzazione viene intesa come sviluppo della persona, sviluppo delle abilità critiche e sviluppo della personalità che assieme formano il connubio del successo formativo dell'allievo. Ovviamente l'inclusione è un processo che si riferisce ad una globalità della sfera educativa quindi ovviamente guarda a tutti, guarda a tutti l'inclusione indistintamente rispetto alle loro potenzialità e quindi interviene l'inclusione prima sul contesto e poi sul soggetto e quindi questo vedete diventa di estrema importanza quindi andare a trasformare una risposta piuttosto che un'altra. Ma in particolar modo ci sono dei principi chiave poi dell'inclusione per esempio il primo in assoluto è quello dell'accettazione della diversità perché abbiamo detto che la diversità viene vista come ricchezza culturale essendo che la diversità viene vista come ricchezza culturale. Questo non è che è poco, non è un qualcosa ragazzi che noi dobbiamo sottovalutare assolutissimamente ma noi dobbiamo anche comprendere che l'inclusione non vuol dire soltanto assicurare diciamo un posto in classe ma essere inclusivi richiede anche uno sforzo continuo cioè quello che vada ad assicurare la partecipazione attiva. Colleghi quando io parlo di partecipazione attiva qua vorrei veramente cioè la vostra attenzione cerchiamo di connetterci mentalmente. L'inclusione richiede la partecipazione attiva di tutti coloro che sono gli attori formativi di un processo inclusivo quali la scuola, ovviamente i docenti di sostegno, i docenti curriculari, i componenti dell'unità multidisciplinare dell'ASL e la famiglia. Perché? Perché l'inclusione viaggio a ragazzi in un'ottica di curricularità orizzontale cioè scuola, rapporto territorio famiglia deve essere l'aggancio per la chiave dell'inclusione e naturalmente questo è correlato alla partecipazione attiva perché se io non innesco la partecipazione attiva in primis della scuola e poi della famiglia io come vado a strutturare scusatemi un intervento nell'ambito pedagogico e sociale che possa condurre l'allievo al successo formativo attraverso la redazione di un progetto di vita, ok? Perché il progetto di vita è appunto un progetto importantissimo che serve agli allievi per sviluppare le proprie potenzialità e quindi arrivare allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e infine delle competenze. Perché? Perché le competenze sono l'imbuto finale che racchiudono le conoscenze e le abilità. Le conoscenze sono l'insieme delle informazioni, questo ce lo annovera sempre il famoso DM 139 del 2007. Le conoscenze sono all'insieme delle informazioni, degli eventi. Le competenze invece significa il sapere eseguire un compito da parte dello studente sulla base della guida che è stata fornita dal docente. L'inclusione quindi è fondamentale per sviluppare che cosa? Una serie di pratiche condivise. Perché condivise? Perché richiede il sopporto di tutti gli interessati e delle figure che vi ho detto poc'anzi. L'inclusione ci fa immaginare una scuola diversa, nel senso che colleghi, la scuola è inclusiva quando accetta la diversità. L'inclusione è l'accettazione dell'altro nella misura altra da sé. Cioè significa che l'inclusione è l'accettazione anche di un'espressione multiculturale. E oggi noi viviamo nell'era della pedagogia interculturale e multiculturale. Tant'è vero che siamo nell'ambito etnografico, etno-linguistico, pluriculturale e plurilinguistico. Perché siamo invasi dalla multiculturalità. Se prendiamo anche le scuole, per esempio, nelle nostre vicinanze, noi troviamo sempre più alunni stranieri. Questo significa che la scuola è inclusiva perché è una scuola diversa che impara a promuovere che cosa? Il cambiamento e lo sviluppo. Questo è l'aggancio pedagogico dell'inclusione. Perché se io in classe ho un bambino arabo che magari parla anche giustamente arabo, io posso creare un interscambio culturale. Posso creare con i bambini nel periodo natalizio un dizionario arabo-italiano. Capire, per esempio, come si dicono le parole del Natale in arabo e quindi le facciamo dire da Mohamed per poi ripeterle in italiano. Creare uno scambio culturale significa entrare nella cultura dell'altro e rimmergerci. Perché la diversità, ragazzi, è bella. La diversità è bella perché è unica e rara. Per questo noi dobbiamo cambiare anche la nostra impostazione. È vero, accettare la cultura dell'altro non sempre è facile. Nel senso che ci sono culture che hanno sapori, odori differenti. Per esempio, io non so se ve l'ho raccontato, ma forse sì perché lo racconto sempre. Ad esempio, io tengo la moglie di mio fratello che è rumena. Quindi che cosa mi capita? Proprio per essere nel tema di questa accettazione della diversità e dello sviluppo di questo immaginario al cambiamento. Quando io vado lì, mi rendo conto ogni volta che io quando entro già ho quella percezione di quelle spezie, di quegli odori che a me disturbano. Perché? Perché magari noi italiani abbiamo una cucina differente. La loro è molto speziata, con molte erbe, la cipolla, l'aglio. Io quando sono lì non riesco a mangiare. Cioè io ho la nausea. Ma perché? Mica perché fa schifo quello che lei cucina? Assolutamente no. Ma è semplicemente un insieme misto di spezie che a me personalmente non piace. Però ecco, poi ci sta mio marito che invece adora la cucina romena. Questo per dirvi che cosa? Che c'è. Anche una predisposizione al cambiamento, all'assaporare culture nuove e così via. C'è magari chi di noi può essere più limitato da questo punto di vista nel senso culinario, però noi dobbiamo sempre invece essere abbracciati da questa multiculturalità e dobbiamo essere invasi a livello pedagogico e a livello scolastico. Quindi questa piena inclusione è fondamentale per i nostri bambini perché comunque dà delle risposte adeguate a tutte le diversità. E quindi l'inclusione è la chiave del successo formativo per i BES. È una chiave di successo formativo. Perché? Perché la teoria per esempio di Ericsson, che è fondamentale, ci dice appunto che esistono anche otto stadi, no? Otto stadi di sviluppo. Cioè per esempio il primo stadio nel primo anno di vita che è caratterizzato da una fiducia e da una sfiducia. Cioè nel primo anno il bambino ha sia fiducia ma sia sfiducia. La fiducia ce l'ha nei confronti della mamma, una sfiducia quindi nei confronti del mondo, però poi si abbia anche la speranza di cercare quindi una fiducia anche verso una nuova figura. Il secondo stadio si ha per esempio da due e tre anni, cioè il concetto di autonomia contro la vergogna. Ragazzi, quante volte ci è capitato di vedere per esempio bambini che a tre anni si vergognavano di fare una determinata cosa. E quindi questo è un secondo stadio che fa parte della teoria di Ericsson. Poi abbiamo il terzo stadio che va dai tre ai cinque anni, quando il bambino comincia non solo ad avere un'iniziativa ma anche a capire il senso di colpa. Il quarto stadio che invece va dai sei ai dieci anni è un'industriosità che è caratterizzato appunto da questa industriosità contro l'inferiorità, nel senso che il bambino prima è industrioso e quindi veramente va alla ricerca del fare e poi dopo magari può avvertire un senso di inferiorità rispetto all'altro. E ricordatevi una cosa che quando il bambino avverte un senso di inferiorità nei confronti dell'altro, del compagno, spesso succede che questo senso di inferiorità poi lo accompagna per tutto il percorso e non solo poi dopo la scuola primaria, lo accompagna anche alla scuola media. Il quinto stadio che a voi poi già non interessa perché siete nell'infanzia e nella primaria, giusto per dirvelo, è quello dell'adolescenza, vabbè, dove c'è questa identità e questa confusione di ruoli. Poi c'è il sesso stadio che vabbè riguarda ovviamente la fase giovanile, il settimo stadio che è l'età adulta e l'ottavo stadio che è la maturità. Ma a voi interessa veramente fino al quinto stadio perché il quinto stadio finisce già che dopo già i dieci anni si può dire che comincia questa preadolescenza e quindi solo per questo a voi interessano questi primi cinque diciamo momenti all'interno di questo slide. Ericsson a voi interessa per una cosa molto importante perché siccome noi abbiamo parlato di inclusione ragazzi e abbiamo detto che questa inclusione è l'accettazione dell'altro e quindi è l'accettazione della diversità, è l'accettazione dell'altro in una misura altra da sé, è il monitorare quindi il cambiamento, è un processo che mira all'inclusione di tutti e di ciascuno. Dobbiamo anche dire ma a questo punto qual è lo scopo di una didattica inclusiva? Abbiamo definito l'inclusione, benissimo, e che cos'è adesso una didattica inclusiva? Dovete sapere che sempre Ericsson ci fa capire che cos'è una didattica inclusiva perché la didattica inclusiva è quella didattica che mira a far raggiungere a tutti il massimo grado di apprendimento. Ovviamente questa parte è fondamentale perché? Perché ovviamente noi ci intendiamo un aspetto anche come dire di collaborazione mista, come dire anche per esempio, ragazzi, quando per esempio noi diciamo che siamo influenzati, ecco non mi veniva il termine, influenzati un po' dalle vicissitudini contestuali che noi viviamo, questo sapete perché? Perché noi siamo, voglio dire, anche influenzati da quello che per esempio è il contesto, da quello che per esempio sono anche le influenze esterne e questo pensate che non è soltanto una cosa che vi dico io, ma che è stata studiata anche in ambito psicopedagogico, pensate che Brunner, che è il padre dello strutturalismo pedagogico, lui ha capito che noi siamo influenzati dalle influenze esterne perché c'è un rapporto nostro con l'interazione con l'ambiente, cioè noi siamo influenzati dalle relazioni e dagli stimoli esterni. E quindi tornando ad Ericsson dopo questo riferimento pedagogico, Ericsson ci insegna che la didattica inclusiva è quella didattica, ragazzi, che mira a far raggiungere a tutti il massimo grado di apprendimento. Quindi è una didattica dove tutti possono raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento, l'importante è che ci sia una didattica personalizzata. Perché io vi sottolineo sempre questa didattica personalizzata? Perché la didattica personalizzata è una didattica che tiene conto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno. Se io per esempio sto in terza classe della scuola primaria, ok, e sto facendo geografia e sto spiegando per esempio un concetto, io per esempio devo anche capire che Michele magari ci può mettere un'ora per imparare questa cosa. Giovanni mette dieci minuti perché magari è visivo, quindi ascolta e impara. Poi magari c'ho Antonio, il ragazzino disabile, che ha bisogno quindi di una mappa concettuale, ha bisogno di essere aiutato e quindi lo sopportiamo io e il docente di sostegno in co-teaching, cioè in co-insegnamento. Perché ricordatevi che l'insegnante di sostegno non è soltanto l'insegnante di Giovanni o di Antonio che tiene la disabilità, perché questa è una pura interessia, assolutamente, ma il docente di sostegno è un docente che collabora in co-teaching con la classe e poi il docente di sostegno, ragazzi, è il docente dell'inclusione e questo significa che il docente di sostegno diventa l'aggancio multiculturale, diventa praticamente la parte di attivare questi processi inclusivi e di conseguenza bisogna poi trovare delle strategie. E non a caso Ericsson promuove sette strategie per l'inclusione, dove abbiamo la prima strategia che è la risorsa dei compagni, cioè secondo Ericsson i compagni sono una risorsa preziosissima ai fini dell'inclusione, ma perché? Perché secondo voi i compagni sono una risorsa preziosissima e ve lo spiego subito perché ragazzi, perché ovviamente voi dovete anche comprendere che non sempre noi comunichiamo noi docenti in maniera efficace, i bambini tra di loro hanno un linguaggio molto più comprensibile, questo significa che avendo un linguaggio più comprensibile, loro possono anche spiegarsi le cose più facilmente e quindi se io per esempio sto spiegando i mari e i monti, oppure sto in quinta elementare, facciamo un'ipotesi, facciamo anche un esempio della quinta, sto in quinta elementare e sto spiegando ad esempio l'Italia, che è il primo argomento nel libro di geografia della quinta e magari non capiscono le penisole oppure i mari, il mar Mediterraneo quindi dove si trova, oppure per esempio quando parliamo del Presidente della Repubblica, degli articoli della Costituzione, magari perché noi lo spieghiamo in maniera ragazzi, purtroppo il nostro linguaggio seppur docenti è troppo forbito spesso, invece tra di loro come fanno? Ma tu hai capito Giada? No, qua è così, vedi perché noi dobbiamo fare, hanno una cosa meravigliosa, infatti noi dobbiamo sempre utilizzare una metodologia se vogliamo essere veramente inclusivi, il peer tutoring ragazzi non c'è niente di più efficace ed efficiente del peer tutoring, sempre, sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, la stessa cosa, facciamo un'altra ipotesi, sempre della risorsa compagni però contestualizzata nell'ambito della scuola dell'infanzia, se io per esempio do nella classe, in seconda, una scheda per mantenere il rigo e il bambino quindi magari si vede questa scheda e non capisce se deve tracciare la linea o se deve colorare pure tutti gli spazi che ci sono, pure la lumachina che fa vedere il percorso, allora il compagno accanto che cosa fa? No ma tu devi fare così, facciamo così, coloriamo, coloriamo, ragazzi capiscono tra di loro, eccezionale, io sono andata a vedere queste cose, lo studiate, ho fatto una ricerca preziosa sull'inclusione e sulla valorizzazione delle strategie proprio di lavoro collaborativo e mi sono accorta che i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno una strategia migliore centomila volte dei bambini adolescenti che già troviamo nella secondaria di primo grado e quelli poi della secondaria di secondo grado, assolutamente perché i bambini dell'infanzia e della primaria hanno veramente uno spirito collaborativo sia in coppia che in piccoli gruppi, quindi veramente per sviluppare l'inclusione in classe noi dobbiamo utilizzare o il peer tutoring oppure sempre questa collaborazione in piccoli gruppi, quindi le due metodologie efficaci ed efficienti sono il peer tutoring e il cooperative learning e quindi durante poi la lezione sulle metodologie tratteremo nello specifico queste metodologie, adesso non entro nel vivo perché ovviamente le cose da dirci adesso sulla normativa Besso sono tante e quindi questa era la prima strategia di Erickson che era le sue stacompagni. Poi la seconda strategia di Erickson è il cosiddetto adattamento. Ragazzi la parola adattamento, pensate, ne parla pure Piaget, cioè l'adattamento significa adattarsi anche al contesto, adattarsi quindi ai materiali che noi utilizziamo, adattarsi alla lezione, adattarsi alla classe, adattarsi allo spazio di apprendimento, quindi significa che per andare a valorizzare le differenze dobbiamo essere consapevoli di adattare i propri stili di comunicazione, quindi le forme di lezione e di spazi. E questo significa che noi dobbiamo sempre andare a gestire un aspetto quindi fondamentale di quello che riguarda l'inclusione e sicuramente, sicuramente questo diventa anche un tipo di adattamento funzionale perché a noi interessa sempre andare alla ricerca di questi canali che offrono non solo degli aiuti ma anche che ti fanno superare le difficoltà, tant'è vero che nel caso proprio dell'inclusione e della disabilità l'adattamento è parte integrante sia del PEI che del PDP. Poi abbiamo la terza strategia che sono invece le mappe, gli schemi. Ragazzi, queste mappe, questi schemi sono importanti ma sapete perché? Perché creare una mappa mentale, creare una mappa cognitiva, creare per esempio degli aiuti visivi aiuta tutti, non è soltanto chi aiuta l'allievo con disabilità, aiuta tutti. Quindi per gli alunni che ovviamente sono in maggiore difficoltà, la forma di schematizzazione è importantissima per arrivare alla conoscenza ma per i bambini che anche non hanno delle difficoltà, e io questo lo vedo anche con mia figlia che oggi sta in quinta elementare, che io ho seguito in tutti questi cinque anni, mi sono resa conto che la forma di schematizzazione aiuta, aiuta sempre perché gioca di anticipazione probabilistica e quindi l'illustrazione diventa significativa. I bambini ricordano più facilmente quanto più schematizzate sono le cose, i bambini non studiano 4-5 pagine come studierebbe per esempio un ragazzo nella scuola media, hanno bisogno della sintesi e la sintesi prima sottolineare e poi dopo ripetere. Quante volte per esempio imparano una frase alla volta perché non sono abituati ad avere un metodo di studio e quindi c'è inizialmente una memorizzazione in terza fino ad arrivare poi in quinta ad una rielaborazione concettuale dove arrivano a dire le cose con parole proprie, è chiaro? Quindi queste strategie sono degli aiuti importanti che vanno a valorizzare queste risorse. I bambini che stanno nella scuola dell'infanzia hanno bisogno quindi di essere schematizzati le cose, di essere raccontati perché non possono ovviamente leggere e quindi c'è il racconto, lo storytelling che diventa importantissimo come risorse conografica. La stessa cosa invece nella scuola poi elementare, nei primi due anni si utilizzano spesso quindi diciamo delle sempre dinamiche come mappe, mappe mentali, mappe concettuali, ma poi dopo avviamo i bambini verso un lavoro di riflessione e quindi andare a capire determinati diagrammi, capire lo schema, capire la tabella e poi un esempio. Il quarto punto chiave della strategia di Erickson invece sono i processi cognitivi e gli stili di apprendimento. Ragazzi, processi cognitivi, quindi parliamo del cognitivismo, i processi cognitivi significa che ognuno di noi, ogni bambino, sia nell'infanzia che nella primaria, mentalizza e cognitivizza in maniera differente. Perché? Perché ognuno di loro ha un diverso stile di apprendimento, quindi ha diversi tempi di attenzione, di memorizzazione, ha diverse abilità psicologiche, ha diversi comportamenti e quindi la didattica inclusiva, lo scopo della didattica inclusiva è quello di valorizzare i diversi stili cognitivi e i diversi stili di apprendimento, perché i differenti stili cognitivi si fondano sui diversi stili di apprendimento, in quanto ognuno mentalizza, memorizza, organizza e riorganizza le informazioni in maniera diversa. Giovanni apprenderà in maniera differente da Antonio, Giovanni dirà la lettura, cosa ha capito di una lettura in maniera diversa da Antonio e viceversa, perché siamo esseri diversi, abbiamo un'elaborazione delle informazioni che è differente, è chiaro, e quindi questo porta poi alla costruzione del nostro apprendimento. La quinta strategia che diventa importante è la cosiddetta metacognizione e qua voglio un attimino la vostra attenzione sul che cos'è questa metacognizione. Dovete sapere, cari ragazzi, che la metacognizione è la capacità di imparare ad imparare, cioè la metacognizione risponde appunto alle raccomandazioni parlamentari prima del 2006 e oggi poi rivisitate nel 2018 dove si parla di imparare ad imparare, perché la metacognizione è la capacità dell'allievo di riflettere su se stesso, cioè di capire i propri punti di forza e i propri punti di debolezza. imparare ad imparare significa appunto, secondo le raccomandazioni, imparare ad organizzare il proprio processo di apprendimento, imparare ad organizzare il proprio processo di apprendimento, questo significa che io quando imparo ad organizzare il mio processo di apprendimento sono in grado di autoregolare, autogestire i miei processi cognitivi ed emotivi per andare a strutturare che cosa. Un metodo di studio che possa essere efficace, efficiente, ma soprattutto personalizzato, ok? Poi abbiamo la sesta strategia di Erickson che sono le emozioni variabili, le emozioni e queste variabili che sono psicologiche nell'apprendimento. Le emozioni, ragazzi, dovete sapere che rientrano in un quadro meraviglioso e Goleman ci parla di intelligenza emotiva relativamente alle emozioni, perché innanzitutto noi dobbiamo definire un'emozione. Pensate che il primo a definire l'emozione è un grande autore che si chiama Ekman. Ekman ci dice che l'emozione è una risposta di breve durata, di uno stimolo, ma di forte intensità. Questo naturalmente ve lo sto dicendo io, non lo trovate nel PowerPoint perché è un approfondimento che esula da quello che devono essere le vostre competenze per il concorso, ma io ve lo voglio dire per farvi capire queste emozioni a che serve, da dove viene, ok? Quindi le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell'apprendimento. È fondamentale quindi sviluppare un'immagine positiva di livello di autostima, di autoefficacia e quindi anche se noi non dobbiamo sapere tutte le regole delle emozioni, però noi dobbiamo capire, almeno a livello diciamo così generico, le emozioni che cosa sono e a che cosa servono. Quindi le emozioni sono delle reazioni di breve durata ad uno stimolo, ma di forte intensità. E Goleman definisce l'intelligenza emotiva proprio come la capacità di monitorare, gestire e dominare le emozioni proprio altrui per guidare il pensiero e l'azione, perché non ci dimentichiamo che le emozioni sono alla base della caratteristica della componente del sé. Noi nell'infanzia partiamo da che cosa? Dallo sviluppo del sé in relazione all'altro, dai campi di esperienza che vedremo in queste lezioni. Nella scuola primaria noi partiamo invece dalle competenze, quindi dal collaborare e partecipare, dal creare quindi condivisione, dal creare inclusione, dal creare accoglienza. Questo significa che la motivazione ad apprendere è influenzata dalle emozioni, così come le emozioni sono praticamente fondamentali per gestire i rapporti con la classe e con il gruppo di pari. La settima ed ultima quindi chiave della didattica inclusiva è la valutazione, la verifica e il feedback. Dovete sapere ragazzi che la valutazione è un feedback costante, questo non lo dico io, ma lo dice Bloom. Bloom ci dice che la valutazione è un feedback costante perché serve agli allievi e ai docenti per capire se gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti oppure no. Le verifiche quindi sono appunto le verifiche e le schede che noi diamo ai bambini, sono le interrogazioni nella scuola primaria, sono i compiti in classe, tutto ciò che verifica diventa momento di valutazione e quindi noi andiamo anche a personalizzare poi le verifiche ragazzi sulla base di quello che è l'elaborazione da parte dell'allievo, cioè se l'allievo per esempio è DSA, ci faccio una verifica con le risposte a crocetta veloce veloce, se l'allievo invece ha una disabilità io concordo con il docente di sostegno che tipo di verifica fare. Quindi il feedback, guardate, deve essere ovviamente continuo, deve essere formativo e non deve essere per nulla punitivo. Questo significa che noi dobbiamo sempre andare a guardare all'inclusione nella scuola dell'infanzia e anche e soprattutto nei primi anni della scuola primaria, perché è lì che si gioca il valore dell'inclusione, come una contestualizzazione che conduca allo sviluppo di una speciale normalità. Dario Ianes infatti ci dice che la disabilità è una speciale normalità, perché? Perché non esiste un alunno che è disabile perché è autistico, se Michele è autistico non significa che è disabile, dice Ianes, ma significa che ha una normalità speciale, quindi magari Michele che è autistico eccelle nel disegno e Giovanni invece che è normodotato eccelle invece nella scrittura. Quindi ognuno ha un'abilità che deve essere sviluppata e ognuno ha una speciale normalità. Questo significa che noi in quanto docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dobbiamo imparare ad essere dei docenti inclusivi, non possiamo non essere dei docenti inclusivi, perché il docente inclusivo è capace di creare un clima di classe inclusivo e quindi di adattare gli stili di insegnamento ai materiali, ai tempi. Bisogna sviluppare quindi un approccio come abbiamo detto prima cooperativo, sviluppare una didattica metacognitiva, cioè sviluppare una didattica che tenga conto del rispetto dei tempi di apprendimento e che tenga conto anche del fatto che ognuno deve riflettere su se stesso e sui propri punti di forza e sui punti di debolezza. Così come anche noi docenti ci autovalutiamo e metacognitivizziamo su noi stessi per capire se quello che abbiamo fatto in classe è stato efficace oppure se la nostra spiegazione in classe è stata una pippa. Quindi bisogna sempre trovare dei contatti per andare poi a modificare in itinere questo percorso di insegnamento. E quindi dobbiamo sempre avere come mira una didattica inclusiva. Dovete sapere che quando noi parliamo di inclusione e anche di TIC nella scuola dell'infanzia, e questo ce lo ricorda proprio la legge 170 all'articolo 3, ci dice che è compito in particolare di tutte le scuole, però principalmente nella scuola dell'infanzia, attivare delle comunicazioni alla famiglia degli interventi per individuare i casi sospetti DSA. Perché sono i momenti in cui poi uno se ne accorge e quindi ci possono essere dei casi sospetti, anche se lo sappiamo, sono comprese le scuole dell'infanzia, ma questi casi DSA si rilevano, e questo ve lo dico per esperienza, a partire dalla seconda classe della scuola primaria. Quindi l'articolo 3 lo contempla la scuola dell'infanzia, però nella pratica noi sappiamo che per andare veramente a definire se un ragazzino possa o non possa essere, diciamo, DSA, si interviene nella seconda classe della scuola primaria, quindi già si comincia a vedere se una persona può essere dislessica, se può essere disgrafica, se può essere disortografica o discalcolica. Le TIC, ragazzi, sono fondamentali nella scuola dell'infanzia, perché quando ne parliamo di TIC, parliamo di tecnologia, dell'informazione e della comunicazione, e voi al concorso, non a caso, avrete cinque inquisiti su queste TIC che fanno parte delle competenze informatiche. Ad esempio le attività di coding con Scratch, le attività quindi di coding manuale, creare un'attività sulla piattaforma, su internet, per cercare appunto di creare anche dei disegni virtuali, creare insieme ai bambini un video. Vedete, sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, le TIC sono fondamentali perché facilitano l'apprendimento e facilitano l'inclusione. Facilitano l'apprendimento perché? Perché se il docente mostra un video, mostra un film, ovviamente noi andiamo a programmare in maniera più semplice degli interventi didattici che conducano poi l'allievo all'attenzione, alla motivazione e alla partecipazione, e quindi accompagnano le TIC, l'allievo al successo formativo. Perché se io spiego una cosa in classe e sto in terza elementare o sto in seconda elementare, e spiego ad esempio anche l'abaco, pensate all'abaco, e io magari invece lo mostro attraverso un video, oppure attraverso un'attività che ho creato precedentemente con la piattaforma World War, i bambini saranno più interessati rispetto invece al cartaceo, perché manifestano quindi una voglia di essere spronate al fare. Poi, ovviamente le TIC, così come il rapporto inclusivo, sono fondamentali anche nella scuola primaria. Perché? Perché se io sto nella scuola primaria e creo una bella mappa concettuale col programma C-Map Tools, questo mi consente per esempio di avviare i bambini allo studio delle favole, della matematica, delle scienze, della geografia, della storia. Perché? Perché ci consente di comunicare con i bambini in maniera del tutto creativa. Quindi l'inclusione TIC nella scuola primaria hanno questo valore appunto di sviluppare la creatività. Sviluppare la creatività e questo viene annoverato anche all'interno delle indicazioni nazionali. Perché? Perché nelle indicazioni nazionali si parla appunto di curricoli verticali, si parla di un'area di condivisione, di progetti, di biblioteche digitali, di mappe, di giochi virtuali, di video, di animazioni, di podcast, tutto questo è tutto TIC. E quindi un esempio appunto di TIC, e sia nella scuola dell'infanzia, ragazzi, perché questo deve essere importante, che nella scuola primaria può essere per esempio creare uno schema corporeo, imparare l'uso del mouse, colora per esempio il bimbo e discrimina i colori, ascolta i suoni e i rumori, memorizzare per esempio le parole dell'inglese di Winnie the Pooh, che però stiamo vedendo il video interattivo, individuale per esempio, che ne so, alto, basso, uguale, diverso, giocare col corpo, creare per esempio un orologio virtuale con la faccia del compagno. Vedete, l'infanzia per esempio gioca sempre un po' con la geometria, quindi gioca con le forme, perché questo è quello che noi dobbiamo fare imparare ai bambini. Per esempio vedere un video sui triangoli, sui quadrati, sui colori, sulla frutta, questo va ad incrementare appunto lo sviluppo dell'apprendimento dell'allievo. E dovete sapere che per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico didattico del docente, il docente utilizza la LIM, questo migliora la formazione del docente e anche la sua comunicazione, la sua formazione non solo con se stesso, ma anche per la collaborazione e per la sua efficacia didattica con la classe. Quindi consente questo di accrescere l'esperienza comunicativa con gli alunni, perché se io sono in grado di comunicare con le tecnologie didattiche, questo mi favorisce anche l'uso di mezzi di comunicazione, quindi mi favorisce anche l'utilizzo di questi mezzi che mi consentono di sopperire alle difficoltà dei bambini e quindi di favorire la socializzazione anche attraverso quella che può essere la realizzazione di un progetto comune. Quindi questo mi consente di potenziare le competenze e la creatività stessa. Queste sono quindi delle strategie per appunto una scuola che possa essere definita inclusiva. Dovete sapere che esistono delle strategie per una scuola inclusiva sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria. Ragazzi, nella scuola dell'infanzia la prima cosa che noi facciamo per avere una strategia inclusiva è la festa dell'accoglienza, perché la festa dell'accoglienza è vero che si fa anche nella scuola primaria, però nella scuola dell'infanzia ha un momento diciamo molto rilevante, perché tutti i bambini vengono inseriti nel nuovo gruppo classe, evento poi tra l'altro traumatico perché inizialmente non si vogliono distaccare dall'allegame di attaccamento con la mamma. E quindi favorisce questo la condivisione anche di sentimenti, di emozioni, di stimolare il senso di fiducia appunto del bambino e questo va anche a favorire la motivazione ad accettare le regole, le regole di gioco e le regole di vita. E poi la scuola inclusiva consente di utilizzare anche tanti linguaggi della comunicazione, linguaggio gestuale, linguaggio mimico, linguaggio pittorico, no? Per poter esprimersi al massimo, ma soprattutto per andare proprio a valorizzare quelle che noi chiamiamo diversità. Con diversità potremmo anche dire personalità, perché ognuno ha una sua personalità, ognuno è diverso. Invece le strategie per la scuola inclusiva nella primaria vanno a promuovere la metacognizione, quello che vi ho detto prima, quindi la riflessione, la conoscenza, quindi si utilizza un approccio scolastico costruttivista. Quando parliamo di una scuola costruttivista, oggi noi siamo nella scuola del costruttivismo e nella scuola dell'attivismo pedagogico, come direbbe John Dewey. Perché? Perché John Dewey, che è il padre fondatore dell'attivismo pedagogico, ci dice che noi oggi mettiamo l'allievo al centro del processo di apprendimento e ovviamente mettiamo anche l'allievo in condizione di fare esperienze attive con quello che impara. E infatti la classe è sia una classe, voglio dire, dove appunto si crea un laboratorio e sia poi abbiamo il laboratorio dove noi andiamo a fare un'esperienza diretta. Ciò significa che il laboratorio non è soltanto il luogo dove io vado a fare l'esperimento con i bambini, e ci faccio vedere determinate cose, oppure vado in palestra e quindi facciamo un'attività laboratoriale, psicomotoria. Ma è soprattutto il luogo della classe dove noi facciamo pratica ed esperienza attiva e diretta con quello che stiamo apprendendo. Sia quindi attraverso il gruppo, sia con la collaborazione del docente e sia quindi lavorando in gruppi e lavorando in coppie. La didattica quindi che cosa fa? Mira allo sviluppo di questi processi di apprendimento. E questo naturalmente implica anche che cosa, colleghi, che noi utilizziamo diversi stili cognitivi. Perché? Perché in diversi stili cognitivi dovete sapere che lo stile uditivo può essere un tipo di stile cognitivo, lo stile visivo è un altro stile cognitivo, lo stile globale è un altro stile cognitivo, analitivo è un altro stile cognitivo. Che cosa significa? Giusto per spiegarvi un attimo questi stili cognitivi. Lo stile cognitivo uditivo, ad esempio, è quello che si basa sull'ascolto. Lo stile cognitivo visivo è quello che guarda le mappe, le tabelle e che quindi ricorda le cose perché è visivo. Lo stile invece cognitivo globale è quello che va dal generale al particolare, quindi capisce e soprattutto estrapola le informazioni più importanti, come faccio io. Lo stile invece analitico, lo stile cognitivo analitico è quello perfetto, preciso, che veramente deve sottolineare ogni cosa e capire ogni cosa. E di solito uno studio così analitico e approfondito non sempre porta allo stesso successo di quello dello stile globale. Questo perché ve lo voglio dire? Perché lo studio che dovete fare in questo corso con me deve essere uno studio globale, perché lo studio globale vi consente realmente di avere tutto nel dettaglio e di comprenderlo più facilmente. Perché il tempo stringe tra un mese o quasi e manco pure ci stanno le prove, quindi il tempo di approfondire e di andare in maniera analitica ad individuare le cose non le teniamo. Perché io per approfondire le cose ci ho messo la bellezza, non me lo posso mai dimenticare, ve lo racconto come experience, ci ho messo nove mesi per partorire veramente, per partorire lo dico in senso metaforico, i riassunti di avvertenze generale per farli poi al corso. Ci ho messo nove mesi, ragazzi. Quindi veramente non è una cosa semplice. E pensate che venivo quindi già da un background di partecipazione ai concorsi, di averli vinti e quindi di darvi tutta la mia conoscenza sia dal punto di vista di quando facciamo i corsi in inglese, perché io insegno in inglese, e sia dal punto di vista del sostegno, perché sono anche docente di sostegno, avendo vinto entrambi i concorsi e anche la specializzazione. E vi posso garantire una cosa, che l'unica cosa che vi dà un etero, ok, organizzazione, una pluridicotomia, voglio dire, proprio apprendistica e concettuale, è lo studio. Però lo studio che vi sto facendo fare io è uno studio mirato, mirato perché io vi sto veramente sintetizzando libri interi e quindi questo voi da soli non l'avreste potuto fare. Quindi, tornando a noi, queste strategie inclusive per la scuola primaria permettono appunto di fare che cosa? Di lavorare, ragazzi, in quest'ottica di didattica laboratoriale. Ragazzi, la didattica laboratoriale viene sempre coniata da Dewey e significa lavorare con una didattica dove io posso fare esperienza. Se io sto parlando del corpo, la maestra mi fa fare la scheda sul corpo oppure creiamo per esempio lo scheletro con l'ovatta e ci mettiamo tutte le cose, i puntini, oppure per esempio creiamo qualcosa anche con i coriandoli, tutto quello che volete. Però ovviamente vuol dire che io sto facendo pratica attiva, esperienza attiva. Il bambino ricorderà più il cartellone, il prodotto che ha fatto, magari dove ha disegnato la sagoma del compagno per terra, piuttosto che quello che ha detto la maestra sul corpo umano, oppure ricorderà più facilmente il libro illustrato sul corpo umano, oppure il cartone sul corpo umano, piuttosto che quello che ha spiegato la maestra, perché andiamo a ragionare in termini di sviluppo di potenzialità. E quindi andiamo nella scuola primaria a promuovere un apprendimento per scoperta, quindi a lavorare appunto su una didattica laboratoriale. Tant'è vero che John Dewey conia anche la metodologia learning by doing, cioè imparare facendo. Questo significa, ragazzi, per agganciarci proprio a quello che accade oggi nel campo dell'educazione civica e della cittadinanza digitale, e l'educazione civica fa parte del decreto legislativo 92 del 2019, da non confondersi con il 96 del 2019, che invece è il decreto che rettifica la 66 del 2017 per quanto concerne l'inclusione che vediamo da qui a breve, ovviamente gli obiettivi trasversali della scuola inclusiva tendono a valorizzare le differenze, perché bisogna creare delle aule accoglienti, perché ovviamente bisogna dare una efficacia e un'efficienza anche degli strumenti che vengono utilizzati, quindi promuovere un ambiente positivo di classe. Questi sono tutti obiettivi trasversali della scuola inclusiva per andare a comprendere quali interventi possono essere discriminatori e quali invece non sono discriminatori. È chiaro, perché quello poi diventa importante. diventa importante perché la stretta organizzazione tra l'inclusione alla scuola e la famiglia deve costituire una rete di collaborazione nell'ottica di quello che vi ho spiegato io prima del curriculum orizzontale, cioè del rapporto scuola-famiglia e territorio, perché la scuola oltre all'apprendimento deve darci anche una collaborazione ed una programmazione che mira a far cooperare la famiglia con i docenti e quindi il coinvolgimento della famiglia è la cosa più importante, perché la famiglia viene coinvolta sempre se dobbiamo redigere un PEI, un PDP, se dobbiamo chiedere il supporto per far partecipare gli allievi, se dobbiamo chiedere che facciano i compiti domestici e quindi la famiglia è un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione, perché se io non conosco la famiglia e magari non so che Michele soffre di un disturbo d'ansia, anche se è un disturbo d'ansia generalizzato e quindi non c'è una 104 per dirvi, io comunque posso almeno cercare di aiutare l'allievo perché conosco il problema, ma se io non conosco il problema non potrò mai capire tutte le altre cose. Per quanto riguarda quindi l'inclusione, ragazzi, dovete sapere che l'articolo 34 che voi nella scuola primaria state facendo studiare tantissimo ai bambini è fondamentale, perché ci dice che la scuola è aperta a tutti. Che significa dire che la scuola è aperta a tutti? Scusatemi, significa che la scuola dà tutto il diritto di ricevere istruzione e formazione, poi abbiamo la direttiva ministeriale principale, che è la direttiva appunto del 27 dicembre del 2012, che sarebbe la direttiva dove ci parla degli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e per l'inclusione scolastica e poi annessa a questa direttiva abbiamo la circolare ministeriale numero 8 del 6 marzo 2013, che sottolinea l'inclusione, ma sottolinea anche la didattica personalizzata e la didattica individualizzata. La didattica individualizzata che mira al raggiungimento di obiettivi comuni alla classe, la didattica invece personalizzata che mira lo sviluppo di obiettivi personalizzati, di una didattica personalizzata dove tutti possono raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento, ma nell'ottica di una didattica personalizzata. Poi dovete sapere che prima quindi della legge 517, come abbiamo detto noi prima, avevamo quella 118 del 71 di cui vi ho anticipato prima, avevamo per esempio gli alunni che non potevano seguire la stessa programmazione della classe, ma che venivano relegati ai margini della società e quindi venivano messi in classi separate, differenziali, per questo chiamate differenziali, dove seguivano la programmazione. Poi con la 517 invece del 77 vengono eliminate finalmente queste classi speciali, quindi queste classi differenziali e vengono anche abolite le pagelle che vengono sostituite dalla scheda di valutazione e vengono aboliti gli esami di riparazione nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado. Poi abbiamo altra normativa di riferimento, ragazzi, la legge 104 e la legge 104 sarebbe la legge quadro per l'assistenza, per l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Vedete, nella legge 104 resta ancora la parola handicap. Handicap sta per svantaggio sociale, a differenza invece di disabilità che nella condizione del suo stato ontologico significa una limitazione o una perdita che può essere temporanea oppure permanente a livello fisico, psicofisico o sensoriale. Invece l'handicap sta per menomazione fisica, psicofisica e sensoriale. Una menomazione che se vi ricordate poteva essere semplicemente studiato dal campo e dal punto di vista medico e quindi per esempio i ragazzini che avevano questo handicap perché non era riconosciuto dalla disabilità era visto come qualcosa che poteva essere curato solo dal medico. Quindi la legge 104 è la legge che garantisce oggi il diritto all'istruzione per i ragazzi, per i bambini con disabilità e ovviamente la legge 104 è l'unica legge che consente al bambino, al ragazzino di avere il piano educativo individualizzato e di conseguenza di avere l'insegnante di sostegno. Invece dall'altra parte abbiamo poi la legge 170 del 2010 che invece ci parla dei disturbi specifici dell'apprendimento che sono i dislessici, i disgrafici, i disortografici e i discalculici. Poi abbiamo il decreto ministeriale di luglio 2011 che ci parla ad esempio di dispensare l'allievo dall'insegnamento o dall'apprendere ad esempio la lingua straniera come l'inglese o il francese ma nella scuola per esempio primaria accade solo ed esclusivamente se il bambino è in condizioni voglio dire gravi e dette dal medico altrimenti non vengono mai dispensati e quindi tutto questo rientra sempre nella direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012 con annessa sempre questa circolare ministeriale. Quindi guardate la vostra normativa di riferimento deve essere sempre questa, la 104, la 170, la direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012 e la circolare ministeriale numero 8. Questa direttiva colleghi è fondamentale perché va a completare il quadro dell'integrazione scolastica di cui noi abbiamo parlato all'inizio lezione. Quindi va ad integrare anche un'altra cosa, gli alunni con svantaggio socio-economico linguistico-culturale. Vi ricordate quando prima abbiamo fatto l'esempio di Mohamed? Se Mohamed è un ragazzino che non ha una disabilità, però è un alunno straniero, gli alunni stranieri e gli alunni adottati fanno parte dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale per cui rientrano nella direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012. Questo significa che il consiglio di classe che si chiama consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia e consiglio di interclasse nella scuola primaria può decidere se revigere ad esempio fare un PDP per l'alunno straniero per compensare magari dei deficit e quindi lo svantaggio socio-economico linguistico-culturale rientra in questa direttiva. Ovviamente la circolare ragazzi del 6 marzo 2013 racchiude veramente il termine inclusione e quindi va praticamente a guardare l'inclusione e l'integrazione in due cose distinte dove l'integrazione è una situazione che ha un approccio voglio dire che guarda solo al singolo, interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, invece l'inclusione è un processo che si riferisce alla globalità della sfera educativa e quindi guarda a tutti gli alunni, a tutte le loro potenzialità, interviene prima sul contesto e poi sul soggetto e quindi trasforma la risposta specialistica in ordinaria. Ovviamente quello che noi dobbiamo fare oggi e quello che fa il docente di sostegno va a progettare un PEI su base ICF. L'ICF è alla base dell'inclusione, l'ICF nasce quindi nel 2001 e significa classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della condizione dello stato di salute. Ovviamente significa che l'ICF mi dice non solo io come funziono, io soggetto disabile, ma anche io soggetto normale come funziono, quindi mi parla del funzionamento in ambito educativo ed apprenditivo. Quando quindi abbiamo detto noi parliamo di questa macro categoria BES che fa parte dell'ADM del 27 dicembre del 2012, dovete anche sapere che questa direttiva si divide in tre passaggi, si divide in tre sottocategorie, quindi disabili collegio 104, IDSA e lo svantaggio socio-economico linguistico-culturale. Solo coloro che hanno la legge 104 del 92, cioè coloro che hanno dei disturbi fisici, psicofilici, sensoriali, motori, hanno diritto ad avere la legge 104 e quindi hanno diritto ad avere un PEI e quindi hanno diritto ad avere l'insegnante di sostegno. Invece i DSA, quindi coloro che hanno il disturbo specifico dell'apprendimento, coloro che per esempio sono dislessici, disgrafici, disortografici, discalculici, non hanno diritto ad avere l'insegnante di sostegno, ma hanno diritto ad avere soltanto il PDP, cioè il piano didattico personalizzato. E questa è la legge 170 del 2010 in cui noi ritroviamo anche gli ADHD, cioè coloro che praticamente hanno un deficit di attenzione, di iperattività e di impulsività. Quante volte ci capita di avere alunni che sono impulsivi, iperattivi e che hanno il deficit dell'attenzione? Che cosa significa il deficit dell'attenzione per gli ADHD? Che hanno un problema a mantenere l'attenzione? Ad esempio tu stai spiegando e quello sta guardando da un'altra parte e non ti caga proprio. Stessa cosa, invece, il disturbo da iperattività. Significa che il bambino è iperattivo, quindi non riesce a stare fermo, deve addarsi in continuazione perché vive una sofferenza stare fermo in un solo posto. E l'impulsivo invece è colui che per esempio parla a sproposito, dice per esempio che va tutto fuori luogo, disturba continuamente la lezione. Quindi in questo caso, secondo voi come strategia inclusiva, il docente che può fare se si accorge che c'è una ADHD? Allora, la prima cosa è per quando c'è il deficit dell'attenzione, cercare di richiamare l'attenzione e quindi senza farci accorgerci che noi abbiamo capito che lui sta in un altro pianeta, diciamo è giusto Giovanni alla maestra, come io ti ho detto, allora Giovanni ma secondo te, se noi per esempio stiamo spiegando adesso la luna, ma questa luna, ma tu ti sei mai chiesto effettivamente sta forma così importante che fa, cioè distoglierla e portare magari a Giovanni a pensare, ah però la luna è rotonda, però è carina. È per effettivamente ragione alla maestra, perché noi stiamo andando praticamente a sviluppare, a ragionare in termini di sviluppo dell'apprendimento, è chiaro. Invece, se Giovanni è iperattivo, allora se Giovanni è iperattivo, quindi non riesce a stare fermo, si muove con l'azione, gira sulla sede, fa e sbuffa e fa così, allora tu in quel caso che fai? Cioè Giovanni vuoi fare un piacere alla maestra? Facciamo un attimo una cosa, vuoi andare un attimo da Pietro, vuoi chiedere un attimo se mi puoi fare queste fotocopie, ti do il libro, vieni qua. Io so che magari Pietro non ci fa le fotocopie, non fa niente, però io l'ho portato a fare un qualcosa, l'abbiamo distratto da quella condizione. Oppure la stessa cosa, se c'è un deficit dell'impulsività e parla sproposito, puoi focalizzare l'attenzione su quello che sta dicendo, rimodulando però il significato. Eh, l'intervento di Giovanni per esempio è stato importante, però Giovanni, cerchiamo di capire quello che volevi dire, metterlo al centro dell'attenzione, significa dare di importanza. Perché spesso questi bambini che hanno questo deficit cercano di me, cercano perché ogni tanto, questa è una prassia e disprassia insieme che viene quando uno fa tante lezioni e quindi capita questo. Quando noi abbiamo quindi a che fare con un deficit che appunto collega questo, significa che c'è il bambino che sta esprimendo un giudizio, sta esprimendo anche una sua difficoltà e vuole uscire da questa difficoltà, è chiaro? Quindi per questo tipo di alunni si redige solo ed esclusivamente il PDP, cioè il piano didattico personalizzato. Ovviamente sto PDP deve essere sempre concordato con la famiglia e deve essere poi firmato dalla famiglia, quindi sono dei percorsi personalizzati, cioè strategie che noi andiamo ad utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative, strumenti compensativi come schemi, tabelle, mappe concettuali e misure invece dispensative dove andiamo a dispensare l'allievo dal fare cose che andrebbero ad inficiare sul suo livello di apprendimento. E infine abbiamo l'area poi dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come vi ho detto, gli alunni stranieri e gli alunni adottati. Pensate per esempio una cosa, una differenza tra gli alunni stranieri e gli alunni adottati, che rientrano sempre in questa direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012. L'alunno straniero non solo viene sradicato, cioè viene sradicato dal paese d'origine, per esempio in Egitto, però arriva in Italia con mamma e papà e parla egiziano, quindi mantiene un contatto con la sua madre terra. Invece, se pensiamo a Igor, che poi vi sto facendo l'esempio veramente del mio alunno, che veramente si chiama così, che invece viene dalla Russia, viene adottato all'età di 12 anni in Italia, da mamma e papà che parlano italiano. Igor non solo viene sradicato dal paese d'origine, ma arriva anche in Italia con mamma e papà che parlano italiano e quindi lui non può parlare russo. Quindi ovviamente c'è bisogno di un aiuto. In questo caso la scuola può decidere su discrezione del consiglio di classe di fare un PDP, cioè un piano didattico personalizzato, che non è obbligatorio come nel caso dei DSA, ma è facoltativo. Quindi per dire come riepilogo chi sono questi BES, se vi dovesse uscire una domanda, questi BES sono tutti quelli che hanno un bisogno educativo speciale, che rientrano nella pedagogia speciale. BES con 104, BES con 170 e BES che rientrano nella direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012. Ovviamente quindi i DSA sono coloro che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento. Abbiamo detto che per esempio possiamo avere i dislessici, i disgrafici, i disortografici, e i discalculici. I dislessici sono quelli che hanno una difficoltà, ragazzi, in che cosa? Hanno una difficoltà nella lettura, i disgrafici hanno una difficoltà nello scrivere, una difficoltà nell'impugnatura della mano, non mantengono il rigo, non mantengono il foglio, per esempio vanno sopra anziché mantenere il rigo. I disortografici sono quelli che hanno un problema invece di transcodifica del testo scritto, che non riconoscono le doppie, quindi hanno un problema appunto disortografico, dove non c'è una corretta ortografia. E poi abbiamo i discalculici che invece hanno un problema nel calcolo. Quindi in questo caso la legge 170 del 2010 che cosa mi dice? Che io posso dare degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Se hai dislessico non ti faccio leggere ad alta voce, se hai disgrafico allora ti do il tablet come strumento compensativo, se hai discalculico ti do la calcolatrice. Perché? Perché questo diventa di estrema importanza. Per questo ragazzi il protocollo di accoglienza importante. Perché il protocollo di accoglienza, quando per esempio si fa l'accoglienza e la famiglia quindi fa anche per esempio un'analisi di quello che praticamente il figlio ha o non ha, noi conosciamo la famiglia, andiamo ad analizzare la famiglia, il bambino, l'inserimento nella classe, andiamo a capire se ci sono delle problematiche. Quindi è fondamentale il rapporto con la famiglia, è sempre fondamentale questo rapporto con la famiglia, perché naturalmente ci consente di arrivare a capire che cosa è questa inclusione. E non a caso ragazzi questo decreto dell'inclusione che prima veniva dato con il decreto 66 del 2017, le norme per la promozione dell'inclusione scolastica, che è stato un decreto attuativo della legge 107 del 2015, viene rettificato dal 96 del 2019. Infatti a settembre del 2019 entra in vigore questo decreto legislativo che ha portato delle novità rispetto al 66 del 2017 e prevede all'interno di questo documento un piano che possa essere redatto veramente per calibrare tutto sull'inclusione. E soprattutto questo decreto 96 del 2019 va a sottolineare l'importanza dell'ICF e del suo approccio biopsicosociale, perché questa è l'unica cosa che richiama, che rimanda ed è uguale alla 66 del 2017, perché l'ICF che viene redatta dall'OMS nel 2001 passa da un approccio biomedico ad un approccio biopsicosociale. Prima dell'ICF, cari ragazzi, noi avevamo l'ICDH, cioè la classificazione internazionale delle malattie e delle menomazioni, questo ICDH, che aveva un approccio biopsicosociale, un approccio biomedico, cioè la disabilità considerata come handicap veniva studiata, valorizzata e soprattutto veniva presa in considerazione, non valorizzata, veniva studiata e presa in considerazione, trattata, perdonatemi, trattata solo dal punto di vista medico e quindi come una patologia. Invece l'ICF non guarda più alla handicap, ma guarda alla disabilità dal punto di vista della sua condizione ontologica, cioè come un approccio biopsicosociale, perché la persona è fatta quindi di un organismo vivente, è fatta di una psiche, di venne sociale. E quindi l'approccio biopsicosociale guarda la partecipazione attiva del soggetto nella scuola, nella società e quindi va a vedere una disabilità in maniera diversa, perché va a vedere appunto la classificazione che consente di avere un quadro completo della situazione. E anche questo, rispetto a quello che poi diventa fondamentale e che resta quindi invariato anche nella 66 del 2017, è il cosiddetto profilo di funzionamento, perché dal 1 settembre del 2019 entra in vigore il profilo di funzionamento. Che cosa significa? Che non abbiamo più la distinzione tra diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, ma diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale vengono incorporati nel profilo di funzionamento. La diagnosi funzionale prima veniva redatta, per esempio, dal medico competente dell'ASL e il profilo dinamico funzionale veniva redatto sulla base di quello che il bambino poteva avere e quindi come gli obiettivi da raggiungere a medio termine e a lungo termine. Invece col profilo di funzionamento non abbiamo più questa distinzione tra diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, ma viene redatto questo profilo. Questo profilo che quindi va ad agire su base ICF, sul modello biopsicosociale e che va praticamente ad essere elaborato dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL. Questo profilo di funzionamento quindi diventa importante perché? Perché innanzitutto è un documento propedeutico alla predisposizione del PEI, non può esserci il PEI senza il profilo di funzionamento, perché il profilo di funzionamento viene redatto in collaborazione con i genitori e quindi ci dice quali sono le difficoltà dell'allievo, quali difficoltà ha sul piano cognitivo, sul piano emotivo, sul piano relazionale, come funziona l'asse linguistico, come funziona l'asse comunicativo, quali interventi quindi si consigliano da parte dell'ASL, quali interventi quindi si impegna a fare la famiglia, se c'è bisogno di fare un intervento riabilitativo, se c'è bisogno di fare delle terapie. Quindi le novità previste da questo decreto 96 per quanto riguarda l'inclusione sono innanzitutto l'assegnazione delle ore di sostegno che avvengono in collaborazione con la famiglia, al fine di avere proprio un chiaro prospetto dell'alunno con disabilità. Invece praticamente prima venivano scelte queste ore di sostegno dall'ASL e poi dalla scuola sulla base dell'organico quindi di diritto. Poi abbiamo le commissioni mediche che oltre ad un medico legale, cioè questo medico legale che preside praticamente la commissione, viene fatta anche una scernita, quindi una scelta di far sì che possa essere presente anche il pediatra o anche il neuropsichiatra ed un medico quindi che si occupa di intervenire realmente sulla patologia dell'alunno che di solito è il patologo. L'inclusione quindi guarda tutta la comunità nel processo appunto di inclusione e di integrazione dello studente, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale come abbiamo detto vengono sostituite dal profilo di funzionamento secondo appunto un decreto che deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 96 del 2019 e che quindi permette di redigere appunto un profilo di funzionamento su base CF, quindi sulla parte del modello biopsicosociale. Ricordatevi quindi questa cosa importante, questo passaggio colleghi dall'ICDH dal 1970 fino al 2001 abbiamo l'ICDH, cioè la classificazione internazionale delle malattie dell'handicap, ok? Dove si guardava la disabilità come handicap da un punto di vista biomedico, cioè poteva essere trattata la disabilità all'epoca considerata come handicap solo dal punto di vista medico. Invece con l'ICF abbiamo un passaggio dal biomedico al biopsicosociale, quindi guardiamo al funzionamento in toto della persona e guardiamo alla partecipazione attiva del soggetto alla vita sociale, alla vita scolastica perché andiamo così a predisporre un progetto individuale che poi confluirà nel PEI, ovvero nel piano educativo individualizzato. È chiaro? Poi, sempre come altra novità prevista da questo decreto, abbiamo il gruppo per l'inclusione territoriale che sarebbe il GIT che ha con il nuovo decreto subito delle modifiche, in quanto mentre prima, ragazzi, procedeva all'assegnazione delle ore di sostegno in base quindi alla richiesta e alla documentazione presentata, ora invece sarà costituito dai docenti esperti, quelli che praticamente vanno a supportare la scuola in tutto ciò che riguarda e concerne la redazione del PEI, quindi a verificare anche quali sono poi i posti disponibili realmente di sostegno che il dirigente scolastico dovrà poi mandare all'USR. Quando parliamo di USR sarebbe l'ufficio scolastico regionale. Poi, l'ultima cosa che cambia è che i gruppi di lavoro per l'inclusione, quindi il GLI, il gruppo di lavoro per l'inclusione con decorrenza dal 1 settembre 2017 è composto dai docenti curriculari, dai docenti di sostegno e anche dal personale ATA eventualmente, dagli specialisti dell'ASL che vengono poi praticamente istituiti presso ciascuna istituzione scolastica, quindi hanno lo scopo poi di fare che cosa? Di andare realmente a dare un supporto nel collegio dei docenti e poi aiutano il consiglio di classe nell'attuazione del PEI, quindi consiglio di classe che per voi diventa consiglio di interclasse, è chiaro? Poi abbiamo il gruppo di lavoro operativo H che sarebbe il GLHO, cioè per ogni alunno disabile, ragazzi, che viene iscritto presso diciamo le istituzioni scolastiche, bisogna operare, denominare un GLHO. Questo GLHO, questo gruppo di lavoro operativo H è costituito dal dirigente scolastico o dal suo delegato e quindi sarebbe dalla funzione strumentale, dal referente poi del GLHI, quindi dal gruppo di lavoro per l'inclusione dei ragazzini appunto con disabilità, dal consiglio di classe, nel vostro caso di interclasse, quindi da uno o più rappresentanti di insegnanti curriculari, dall'insegnante di sostegno, dagli operatori dell'ASL, dai genitori dell'alunno, tutti quelli che praticamente vanno ad operare e a collaborare da un punto di vista funzionale per l'inclusione. Di ogni seduta viene redatto ovviamente un apposito verbale del GLHI perché dovete sapere che il gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno e quindi poi va praticamente ad elaborare il profilo dinamico funzionale che abbiamo detto che a decorrere sempre da questo primo settembre 2019 non viene più redatto perché è sostituito da questo profilo di funzionamento che quindi è propedeutico e necessario al PEI. Quindi la cosa importante è che non esiste più il profilo dinamico funzionale, la diagnosi funzionale, ma vengono entrambi inglobati nel profilo di funzionamento che sono fondamentali per la redazione e la predisposizione del PEI. Quindi bisogna indicare poi al GLHI le ore di sostegno che sono necessarie nel successivo anno scolastico e quindi provvedere così ad ogni altro adempimento necessario perché questo poi diventa importante per garantire le ore di sostegno. Il piano poi per l'inclusione che è una prerogativa fondamentale sia nel 66 del 2017 che il decreto attuativo della 107 e sia nella 96 del 2019 riguarda praticamente il come funziona la scuola, come si organizza la scuola per attivare delle risposte adeguate per l'inclusione. E quindi viene fatto questo piano per l'inclusione che poi deve essere approvato dal collegio dei docenti, di definire come vogliamo coordinare le risorse, come possiamo superare le barriere del disagio, come possiamo quindi individuare e facilitare l'intervento di qualità dell'inclusione scolastica, che cosa possiamo fare noi per migliorare l'inclusione. Allora possiamo per esempio fare, possiamo prevedere dei progetti inclusivi, possiamo prevedere una recita finale, possiamo prevedere un'accoglienza particolare. Cioè quali sono le indicazioni operative che fa questa scuola? Perché? Perché comunque il piano per l'inclusione conclude anche un lavoro che viene svolto dall'anno, dall'anno scolastico in corso e quindi che è fondamentale per capire anche come avviare poi il successivo anno scolastico. Perché se l'inclusione non è stata praticamente diciamo cosa che non succede mai, se non è stata perseguita nell'anno scolastico precedente, vuol dire che noi dobbiamo andare per quello successivo a modificare qualcosa. Perché l'importante è che nel piano per l'inclusione venga sempre garantita questa continuità dell'azione educativa e quindi questa continuità dell'azione didattica, perché secondo il piano per l'inclusione è quello di far emergere delle criticità e dei punti. La cosa fondamentale è che secondo la 66 del 2017 il PAI, quindi questo piano per l'inclusione era appunto annuale, invece adesso non è più annuale, infatti diventa da PAI, diventa semplicemente piano per l'inclusione. Quindi questo piano per l'inclusione dove appunto se un intervento è una strategia in direzione inclusiva va bene, noi la possiamo ottenere sempre e perseguire costantemente, non è che praticamente la dobbiamo andare a cambiare, assolutissimamente. Poi c'è una tempistica per questo piano dell'inclusione, perché ovviamente abbiamo detto che resta la terminologia PAI, quindi o lo chiamiamo PAI o lo chiamiamo P, è la stessa cosa, o lo chiamo PAI o lo chiamo piano per l'inclusione. Solo che dobbiamo sapere che era annuale con la 107, adesso invece è semplicemente piano per l'inclusione. Quindi questo piano praticamente che cosa fa? Il GLI, quindi il gruppo di lavoro per l'inclusione, va a proporre quindi questo piano per l'inclusione, poi viene deliberato nel collegio dei docenti e ovviamente se ci sono delle modifiche da fare e da effettuare vengono fatti. I destinatari quindi del piano per l'inclusione, ovviamente ragazzi, chi sono secondo voi? Sono tutti gli agenti che troviamo nella scuola, gli agenti educativi, gli alunni, le famiglie, il personale, il dirigente, tutti, perché i punti essenziali da adattare nel piano per l'inclusione è la necessità appunto di trovare degli interventi didattici ed educativi che badino praticamente a sottolineare anche la personalizzazione dell'apprendimento. Perché? Perché naturalmente questo significa che ogni studente, ragazzi, ogni studente è come dice Daniel Pennac, ogni studente è in grado di suonare una musica, è in grado di suonare una sinfonia. Però è fondamentale che è difficile sicuramente riconoscere chi sono i bravi musicisti. Noi non dobbiamo riconoscere i bravi musicisti soltanto da come fanno musica, ma anche da come l'orchestra si occupa di creare la sinfonia e quindi di fare praticamente una sorta impeccabile di rituale che va a creare un piacere e quindi anche un rituale stesso di quello che poi riguarda, ragazzi, la parte quindi dell'essere se stesse e quindi di avviarci anche verso una sinfonia che possa condurre l'allievo a trovare il proprio centro, il proprio baricentro e la propria dimensione. Quindi tornando un attimino a noi, per queste differenze un attimino mirate, perché voglio che le capiate bene, infatti voi trovate proprio il powerpoint, tutto quello che ho visto. Innanzitutto nel decreto 96 del 2019 abbiamo, come abbiamo sottolineato prima, l'adozione dei criteri dell'ICF e anche dell'accertamento della condizione di disabilità, cosa che nel 66 del 2017 mancava. Poi la cosa importante è la modifica delle commissioni mediche nella 96 del 2019, perché vengono modificate le commissioni mediche per accertare la disabilità e soprattutto anche l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica. Invece nella 66 del 2017 il certificato per questa inclusione scolastica veniva rilasciato solo dall'ASL al passaggio di ogni ciclo, invece adesso abbiamo questa modifica nella 96. Poi abbiamo un'altra modifica importante nella 96 del 2019, cioè si sottolinea rispetto alla 66 del 2017 il valore dell'inclusione a livello pedagogico, sociale e formativo, cioè si sottolinea che l'allievo deve essere un allievo che partecipa nella sua massima misura possibile nel rispetto del principio di autodeterminazione, quindi la 96 del 2019 sottolinea l'autodeterminazione, lo sapete che cos'è l'autodeterminazione, il principio di autodeterminazione? È il principio da parte del soggetto di scegliere le cose che vuole, di scegliere le cose da fare, quindi in questo caso lo si fa quando il bambino è in grado, diciamo, di, è cresciuto e quindi è quasi un preadolescente, perché altrimenti c'è sempre la famiglia e non c'è il bambino, quindi il principio di autodeterminazione significa che il bambino, il ragazzo decide con chi stare, da chi farsi curare, quali sono le cose che vorrebbe fare, cioè avere veramente voce in capitolo, perché il concetto più importante nell'inclusione è appunto quello di mirare allo sviluppo del rispetto del principio dell'autodeterminazione. Poi dovete sapere che nella 96 del 2019, quindi il dirigente scolastico che comunque incarna appunto la scuola e poi c'è il docente specializzato del sostegno che si occupa di fare quindi da gancio, da tramite anche col dirigente, nella scuola appunto i genitori che fanno trasmettono il profilo di funzionamento alla scuola per andare a predisporre il PEI e naturalmente poi dopo il profilo di funzionamento viene aggiornato al passaggio di ogni grado. Invece nel decreto 66 del 2017 non c'era la partecipazione dell'alunno disabile e quindi c'era un rappresentante voglio dire generico che di solito veniva individuato tra i docenti. Per quanto riguarda i tempi di attuazione dovete sapere che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto vengono definite le linee guida che contengono quindi i criteri, le modalità, i criteri quindi valutativi, i criteri contestuali per l'inclusione, si tiene conto quindi della classificazione internazionale delle malattie che sarebbe l'ICD, si tiene conto dell'ICF che è la classificazione internazionale del funzionamento e della condizione dello stato di salute e naturalmente quindi si tiene conto di una redazione su base ICF. Poi la cosa importante cari colleghi è che nel decreto 96 del 2019 si parla appunto di questo progetto individuale che è redatto dal competente ente locale e quindi da un progetto anche di intesa con la competente azienda sanitaria locale. Ovviamente questo consente anche di lavorare dal punto di vista della collaborazione e della partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, invece nel 67 del 2017 il decreto indicava solo ente locale e i genitori. Poi altra cosa fondamentale che il decreto 96 del 2019 porta anche una modifica all'articolo 7 della 66 del 2017 e quindi abbiamo detto la cosa che è importante è che il documento deve essere redatto dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione perché noi abbiamo il GLOI, gruppo locale operativo per l'inclusione. Quindi vedete abbiamo questo passaggio importante che adesso ci arriviamo man mano perché ovviamente abbiamo questa quantificazione delle ore di risorse necessarie per il sostegno e il pay va redatto poi in via provvisore entro il mese di giugno e naturalmente di norma entro e non oltre il mese di ottobre deve essere anche dato al referente per l'inclusione scolastica. Quindi significa che questo GLOI va a sostituire il GLHO che abbiamo visto prima. Quindi non abbiamo più il GLHO ma abbiamo il gruppo locale operativo per l'inclusione. Quindi ricordatevi il GLOI diventa GLOI perché era tutto così ad capocchiam, perdonatemi un po' quel termine così scurrile. Invece qua adesso nella 96 c'è tutta una precisione perché invece il decreto attuativo della 107 che aveva fatto ben poco sotto questo profilo. È chiaro? Poi nella 96 del 2019 si vanno anche a chiarire quali sono i rapporti tra i differenti documenti per ovviamente l'inclusione scolastica. Quindi c'è anche un particolare come dire riferimento al progetto individuale perché il progetto individuale sarebbe questo progetto che poi deve essere individualizzato definito come facente parte del progetto individuale e quindi ovviamente nella 66 del 2017 anche questo era mancante. Quindi viene introdotto nella 96 del 2019 viene introdotto il principio di accomodamento. Quindi questo diventa anche ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli pay. Invece nella 66 del 2017 anche questa cosa era mancante. Poi nella 96 del 2019 abbiamo un coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione per il fatto del principio di autodeterminazione. Quindi va a modificare l'articolo 9 perché questa cosa praticamente non era contemplata e quindi il decreto specifica che la partecipazione attiva degli studenti deve essere sempre assicurata all'interno del gruppo. E quindi entro 60 giorni dalla quella che è la data di entrata in vigore della presente disposizione sono praticamente poi definite tutte le misure di sostegno. Ma ovviamente spesso mi chiedete ma il pay va revisionato ogni anno? Ma certamente che questo pay va revisionato ogni anno. Tu ogni anno devi fare il pay, non è che puoi fare il coinvolgimento dell'anno precedente. Ogni anno c'è bisogno di un pay diverso perché c'è un'abilità intellettiva differente, cognitiva differente e quindi ovviamente questo cambia. Poi nella 96 del 2019 abbiamo un riferimento molto più preciso ai ruoli del GIT che sarebbe il gruppo per l'inclusione territoriale. Quindi il GIT ragazzi conferma sempre la richiesta inviata dal DS all'USR e quindi relativa a quanto concerne le misure di sostegno. Quindi può esprimersi su questa richiesta un parere favorevole oppure no. Il GIT rappresenta quindi il punto di riferimento del supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole istituzioni scolastiche. E infatti il GIT riceve poi dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e poi alla fine va a fare la proposta all'USR. Per quanto riguarda quindi un'altra modifica importante riguarda il gruppo di lavoro per l'inclusione, cioè il GLI, il gruppo di lavoro per l'inclusione. Questo gruppo viene nominato vabbè è presieduto dal dirigente scolastico che ha il compito di supportare il collegio dei docenti e abbiamo detto che ha anche il compito di aiutare il consiglio di classe, nel vostro caso il consiglio di interclasse, nella redazione e nell'attuazione del PEI. E naturalmente dovete sapere che partecipa anche un rappresentante territoriale competente, cosa che nella 66 del 2017 questa presenza del rappresentante dell'ente territoriale competente non era praticamente contemplata. Poi nel 96 del 2019 abbiamo una cosa importantissima, cioè abbiamo finalmente la presenza dei GLO, cioè dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione dei singoli allievi, perché i GLO operano per l'inclusione dei singoli allievi, i GLI invece operano a livello di tutta l'interessazione scolastica, quindi questi GLO, questi gruppi di lavoro operativi hanno il compito anche essi di definire il PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa anche la proposta di quantificazione delle ore e poi soprattutto attraverso il GLO viene assicurata la partecipazione attiva degli studenti. Invece nella 67 del 2017 questi GLO non erano proprio menzionati. Altra cosa importante, nella 96 del 2019 vengono identificati, quindi vengono individuati i centri territoriali di supporto, i cosiddetti CTS, che sono centri territoriali di supporto per la consulenza, la formazione, per il collegamento, per il monitoraggio, cosa che nella 66 del 2017 non erano assolutamente menzionati. Altra cosa importante che riguarda l'individuazione delle misure di sostegno, sempre nella 96 del 2019, che cosa accade? Che il dirigente scolastico sulla base dei PEI di ciascun allievo, raccolte tutte quelle che sono le osservazioni, sentiti i pareri poi del gruppo di lavoro per l'inclusione, sentito anche il gruppo per l'inclusione territoriale, che cosa fa? Invia all'ufficio scolastico la richiesta complessiva dei posti di sostegno di cui ha bisogno. Invece nella 66 del 2017 il DS, sentito il GLI, quindi il gruppo di lavoro per l'inclusione, è sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione delle ore. Invece qua è tutto il contrario, perché qua sente il GLI, sente il GIT, tiene conto e fa la proposta. Quindi questo è un cambiamento importante, notevole. Ovviamente questa parte per quanto riguarda il tempo di attuazione, già a partire dall'anno 2020-2021 si è attuato tutto. Il decreto 96 poi del 2019 emana anche, colleghi, un decreto specifico su quelle che sono le misure di accompagnamento, cioè su quelle che riguardano le istituzioni, le nuove modalità di inclusione, come vengono fatte queste modalità, come vengono specificate all'interno dell'anno scolastico, come sono specificate queste azioni formative per il personale scolastico. Invece nella 66 del 2017 questo ha rappresentato ovviamente una parte mancante. Una cosa che è fondamentale ragazzi, e qua veramente e soprattutto adesso in virtù del Covid e in relazione anche a quello che quindi veramente adesso c'è e si sta dando veramente poca attenzione a mio avviso a quella che è l'istruzione domiciliare, io vi voglio dire una cosa, questa istruzione domiciliare che non è stata mai contemplata nella 66 del 2017, quindi qua io voglio veramente anche una vostra riflessione proprio condivisa, mi piacerebbe tanto avere queste riflessioni perché mi manca il vostro contatto, vi dico la verità. L'istruzione domiciliare ad esempio nella 66 del 2017 non è mai stata contemplata, motivo per il quale se un allievo aveva delle difficoltà doveva fare tutto un iter particolare, invece adesso con la 96 del 2019 viene prevista l'istruzione domiciliare, quindi viene fatto un'integrazione attraverso l'articolo 16 del vecchio 66 del 2017 parlando appunto che l'istruzione domiciliare è un diritto, cioè bisogna dare la possibilità ai ragazzi se non possono stare a scuola perché magari o si è aggravato un problema o hanno fatto un incidente o hanno fatto per esempio un intervento alla gamba, per non perdere un mese di scuola possono avere l'opportunità di fare l'istruzione domiciliare e questa parte ragazzi non è da sottovalutare perché è assolutamente mancante nella 66 del 2017, quindi vedete questo powerpoint che vi abbiamo preparato noi dallo SNARS è eccezionale perché vi mette subito il confronto tra la 96 e la 66, perché per avere un confronto del genere vi dovevate soltanto suicidare veramente sulle due leggi e trovarle perché veramente è stato un suicidio anche per noi capire tutte queste differenze che sono comunque tutti i decreti ultimi attuativi, poi nella 96 del 2019 dovete sapere che per garantire proprio una certificazione per garantire tutto ciò che riguarda la certificazione dell'alunno e quindi la trasposizione e anche la veridicità dei fatti e la scuola si occupa anche di richiedere quindi delle risorse umane per il passaggio da un grado all'altro di istruzione, quindi si deve chiedere delle figure, quindi per garantire comunque un'attuazione delle disposizioni relative alla certificazione dell'alunno con disabilità e quindi relativa al profilo di funzionamento, al PEI, a questo progetto individuale, perché il progetto individuale pensate che inizialmente era stato previsto anche, mi viene l'aggancio adesso da dirvi alla 328 del 2000, questo progetto individuale che poi veniva sempre andando a confluire nel PEI e l'ITER poi è fondamentale perché fino alla costituzione dei GIT la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'USR, questa parte abbiamo detto che nella 66 invece del 2017 era assolutamente mancante. Una cosa con la quale noi terminiamo la nostra lezione e con la quale voglio anche una vostra riflessione, voi sapete che molto spesso ci troviamo a vedere tanti bambini che devono essere aiutati nel cambio, che hanno bisogno quindi di un'assistenza igienico personale. Secondo voi nel decreto legislativo 96 i compiti di assistenza igienico personale sono menzionati? No. Nella 66 del 2017? No. Perché non vengono menzionati? Perché sono dei grandissimi paraculi, scusatemi la volgarità, ma non per tutelare il personale ATA. Ma io voglio dire una cosa, ma così come il docente non si mette a cambiare il pannolino, ok? O il pannolone quando ci sta un caso di disabilità grave, ma perché il suo personale ATA poverino anche se non viene contemplato implicitamente lo dovrebbero mettere? Perché questi poverini vanno ad aiutare il genitore che viene a portare il cambio e lo aiutano nel cambiarlo soprattutto quando i ragazzi sono belli pesanti, quando per esempio stanno sulla sedia a rotelle e non si possono muovere, il genitore non lo fa da solo, c'è sempre il personale ATA. Allora io voglio dire una cosa, per carità va benissimo aiutare il prossimo, va bene, però se non è un compito specifico non puoi fare che poi un compito specifico me lo fai diventare come compito specifico, perché questa poi non è giustizia e sicuramente non è neanche una cosa per aiutare l'altro, ma anche perché io vi voglio dire una cosa ragazzi, nel momento in cui il personale ATA non ha questo compito di assistenza, ma secondo voi questo compito di assistenza sarebbe giusto poi darlo a qualcun altro e soprattutto perché invece non chiamano altre figure che potrebbero quindi occuparsi di fare questo nella scuola? Cioè dovrebbe esserci un assistente materiale per gli alunni con disabilità, anche perché io vi voglio dire una cosa e questo sottende un po' quello che ci siamo detti finora, voi dovete sapere che il Ministero della Pubblica Istruzione già con una nota del 30 novembre del 2001 e mi ricordo pure il protocollo che è il 33 90 perché io tengo comunque mio nipote che è disabile, quindi io mi le vado a vedere tutte, ha distinto tre livelli di assistenza il grandissimo, quello didattico, quello materiale e quello igienico, ma quello didattico è riservato agli insegnanti specializzati per il sostegno, quello educativo viene svolto dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e quello igienico materiale è affidato ai collaboratori scolastici in forza dei contratti collettivi, però in questa la necessità dell'assistenza igienica e materiale dovete sapere chi ha avuto negli anni delle risposte diverse, perché? Perché fino comunque mi ricordo al 99-2000 questa forma di assistenza era svolta dai bidelli che erano dipendenti dei comuni e in parte delle province, perché vi ricordate prima non erano, i bidelli erano dipendenti dei comuni e della provincia, poi della scuola e quindi ad eccezione di qualche dipendente che era dipendente della scuola media, che cosa succedeva? Che quasi nessuno nell'ambito di questo personale aveva svolto questo tipo di assistenza, poiché la maggior parte dei comuni aveva stipulato delle convenzioni con le cooperative, alle quali poi andava ad assegnare i compiti dei bidelli. Poi che cosa accade? Che nel 99 i bidelli vengono praticamente transitati nei ruoli dello Stato e quindi cambiano la deminazione in quella di collaboratori scolastici, però mantengono sempre le funzioni previste dai loro contratti collettivi di lavoro nazionale, sarebbe il CCNL che legate nemmo pure noi ragazzi per intenderci. Il ministro quindi della pubblica istruzione che cosa fece? Tentò, come dire, di far svolgere loro queste mansioni, ma si trovò giustamente di fronte a delle forme di resistenza, per dire, ma immagia subito, pur si cosa? Quindi una forma di resistenza e di rifiuta, anche per l'infelice, voglio dire, di scitura che non era contemplata in questo cavolo di CCNL e quindi poteva anche svolgere, perché nel CCNL stava scritto poteva svolgere anche questo tipo di assistenza, ma non è stato dato questo tipo, perché una cosa è poteva. Questo termine poteva fu interpretato quindi specie dai sindacati, nel senso che il singolo collaboratore poteva anche legittimamente rifiutarsi di svolgere questa mansione. E si tentò quindi anche di chiarire, dovete sapere, che la questione tra il Ministero, poi c'era stato pure Lanci, poi Lupi, le organizzazioni sindacali, giusto per darvene una, limitava quindi a richiamare il CCNL assai equivoco su questo punto. Quindi ci fu, come dire, un senso di provvedere all'eliminazione, pensate, della nota ministeriale, appunto questa qua, la 3390 del 2001, di cui poi si è detta la premessa che chiariva queste diverse mansioni. E il Ministero, in sede poi di rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, in particolar modo del 2003, mi ricordo benissimo, introdusse questa intesa con i sindacati, nei quali si definiva, si ridefiniva il profilo professionale dei collaboratori scolastici e si distingueva tra attività di assistenza materiale, che consisteva nell'accompagnamento degli alunni di condisabilità da fuori e dentro alla scuola e nei locali della scuola e attività di cura dell'igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici. Ma accompagnamento ai servizi igienici significa che se io non sono in grado lo vado ad accompagnare qualcuno che per esempio non riesce, è disorientato. Quindi attenzione a quello che vi sto spiegando. La prima tipologia poi di queste mansioni, quindi l'attività di assistenza materiale, è comune a tutti i collaboratori e rientra nel loro ordinario mansionario. Quindi l'accompagnamento deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore scolastico. La seconda poi tipologia, cioè l'attività di cura dell'igiene personale, è particolare, richiede un corso di formazione, pensate un po', di circa 40 ore, che poi dava diritto ad un incremento della retribuzione, cosa che non c'è mai stata, tra parentesi. Quindi questa normativa è stata poi dopo sottoscritta e quindi anche stabilisce che la formazione e l'aggiornamento, vabbè, sono un diritto, ma anche un dovere e quindi collaboratori scolastici spesso si rifiutano, per esempio, di frequentare i corsi formativi e di svolgere le mansioni di assistenza igienica. In queste situazioni, quindi di fronte all'eventuale rifiuto di questi collaboratori, i dirigenti, quindi, che cosa possono fare? Non sono in grado di assicurare la qualità del servizio scolastico di cui è responsabile. Avete capito qual è la differenza? Se ti fai il corso di formazione di 40 ore c'è una piccola remunerazione in più e tu vai a cambiare pure i pannoloni. È chiaro. Se invece tu non lo vuoi fare perché ti puoi anche rifiutare, perché qua siamo in una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e ce lo ricordo la Costituzione veramente, il primo gennaio del 47, all'articolo 9, ci dice che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Quindi che cosa accade? Significa che il dirigente non ti può assicurare la qualità del servizio, però poi che cosa accade? Questo detto tra di noi. Che cosa accade, ragazzi? Diciamoci la verità, che nel momento in cui il collaboratore si vede, per esempio, un ragazzino paraplegico, poverino, che nessuno lo aiude, viene il genitore, vede il genitore in difficoltà. Che cosa accade secondo voi? Che pure che non ha fatto le 40 ore di formazione obbligatoria? Che cosa accade secondo voi? Che la mano ce la dà o non ce la dà? Certamente ce la dà. Ed è per questo quindi che sia il decreto per chiudere la nostra discussione di oggi, vi ho fatto una panoramica perché a me piace entrare nel dettaglio, mi avete conosciuto. Io vi voglio dire una cosa, nonostante quello che però abbiamo detto oggi, nel 96 del 2019 e nella 66 del 2017 la paraculaggine è stata eccezionale perché intanto non è stata menzionata. Avete capito come se ne sono usciti bene? Perché ovviamente non è semplicemente poi semplice fare anche un discorso di esposizione a quello che è il rischio di denuncia da parte della famiglia, che potrebbe essere per un'omissione di atti in ufficio. Perché non ci dimentichiamo, ragazzi, che noi qua non abbiamo genitori, voglio dire, ignoranti. Noi qua abbiamo genitori che subito sono pronti a fare denunce, qua fanno le denunce, pure se il figlio prende cinque, allora vogliamo capire che il dirigente comunque dovrebbe convocare un ordine di servizio, poi dovrebbe andare al giudice del lavoro, quindi vedete non è semplice. Quindi garantire l'assistenza igienica agli alunni con disabilità, col vantaggio che non sono tenuti a rispetto delle graduatorie come nelle scuole statali, questo accade per esempio nelle scuole paritarie, ovviamente è un qualcosa che può avere dei pro e dei contro. E quindi se noi per esempio volessimo anche capire come poter sopperire a questo tipo di problema, allora ci dovrebbe essere questa formazione di 40 ore appunto che riguarda il supporto scolastico dei collaboratori per l'assistenza materiale, è un po' come una scelta, è come la scelta del docente di fare il corso di primo soccorso, ad esempio il corso di primo soccorso e di rianimazione col BLSD quest'anno non l'ho fatto perché mi deprimevo a pensare di fare la manovra perché tengo paura, sono un soggetto ansioso e quindi ognuno agisce in maniera differente. Ho detto prima o poi lo farò, però poiché ho visto persone che se ne sono andate per questo motivo non sono ancora pronta per assistere a questo. Quindi vedete ognuno di noi ha una spiegazione piuttosto che un'altra, quindi ognuno di noi riesce poi a sottrarsi oppure no a determinate cose. E quindi il supporto ragazzi vedete è sempre fondamentale per tutto quello che noi ci siamo detti oggi. Ovviamente in merito a quello che noi abbiamo detto per l'assistenza è sicuramente un qualcosa che deve essere purtroppo remunerato in più, ma questo in base alle 40 ore di formazione obbligatoria. Quindi alla luce di quello che ci siamo detti noi oggi, mi raccomando studiatevi bene tutte queste cose in modo tale che sarete così pronti per la quarta lezione. Una cosa sulla quale vorrei che voi poneste la vostra attenzione, quindi per non dimenticarvi mai, ricordatevi sempre questo passaggio dall'ICDH all'ICF. L'ICD invece resta come classificazione appunto diagnostica dell'OMS che ci dice qual è il tipo di deficit, perché lo troviamo nel profilo di funzionamento. Ad esempio ICD10 disturbo delle abilità scolastiche, disturbo misto, ICDF71.3 disturbo dello spettro autistico, cioè sono codici che ci danno praticamente anche una consapevolezza di che cosa ha l'allievo. Quindi c'è anche una sorta di comprendere qual è il funzionamento dell'allievo, quali sono gli alunni con disturbi e quali vengono praticamente invece inseriti nella direttiva ministeriale del 27 dicembre che sono quegli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Però volevo porre l'attenzione vostra su un'ultima cosa che mi sono dimenticata di dire prima. E cioè, se io mi rendo conto che ho un bambino che ha un po' d'ansia, che è un po' triste, che piange spesso, perché mamma e papà si sono separati da poco. Ma secondo voi questo alunno è un BEST? Sì, è un BEST temporaneo. Quindi rientra negli alunni con svantaggio socio-economico e linguistico-culturale, rientra nella direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012, per cui, cari ragazzi, può anche scegliere il consiglio di interclasse o il consiglio quindi di intersezione di redigere un bellissimo PDP, cioè un piano didattico personalizzato, perché lo scopo della didattica inclusiva è quella di far raggiungere a tutti il massimo grado di apprendimento. Quindi, come dice Daniel Pennac, diamo l'opportunità a tutti di suonare il proprio strumento. Vi lascio con una frase meravigliosa di un libro che io amo, di Alda Merini, che si chiama L'altra verità, diario di una diversa. Alda Merini, che noi conosciamo come una delle più grandi poetesse italiane, che è stata ed è praticamente l'eccellenza nella scrittura, lei scrive questo libro e racconta di dieci anni che purtroppo ha subito durante il periodo in cui era stata considerata come pazza e quindi stava in manicomia. Ha subito dieci anni quindi di torture varie, di elettroshock e lei dice, ma chi sei tu per chiamarmi diversa in questo libro non mi sento diverso, mi sento una folla e una speciale normalità. E quindi, vedete, riprende la concezione, la concezione freudiana secondo cui la follia è un modo di liberare l'arte attraverso la creatività. E questa è una cosa bellissima perché l'arte viene vista come forza riparatrice, secondo Freud, anche come secondo Melanie Klein. E vabbè, anche se giustamente questa non è una cosa che a voi interessa principalmente, però era per darvi una indicazione maggiore. Spero veramente di essere stata chiara, di essere stata di vostro gradimento. Vi mando un bacione grandissimo e vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.